Quarto film in concorso e primo italiano, Anime Nere di Francesco Munzi, terzo film dell'autore romano, dopo Saimir, che nel 2004 vinse il premio dei laurenti e se fu presentato a Orizzonti, e il Resto della Notte, che nel 2008 accompagnò a Cannes, alla King's Ender Realizzatore, il Divo e Gomorra in concorso e fu quello l'anno in cui si ricominciò per l'ennesima volta a parlare di una rinascita del cinema italiano. Il film di Munzi è tratto da un romanzo di Gioacchino Criaco, Uomo della Spromonte, che dà sempre l'idea di conoscere perfettamente quello di cui sta raccontando. È per Munzi un altro romanzo criminale e ha anche un'altra storia di formazione e deformazione esistenziale di un giovane, dato che è uno dei figli di uno dei tre fratelli, protagonisti del film, tre fratelli che hanno un rapporto molto differente con la loro terra d'origine, della tradizione di questa terra e anche la degenerazione che può essere appunto, che è assolutamente la malavita organizzata. È un film questo che continua nel percorso di Munzi, che è un percorso, una via al cinema secondo le traiettorie di un noir sociale, di un pianto realista. Da una parte c'è il cinema di genere, il gangster movie qui in chiave tragica, dove la tragedia serve all'autore per decostruire il mito malavitoso, dall'altra l'esperienza documentaristica di Munzi, che serve al regista per... che dimostra che il regista è in grado di far parlare i dettagli, di leggere nei luoghi, sui volti dei protagonisti, attori professionisti e non professionisti, le storie sommersi, i legami culturali e socio-economici che delineano il destino dei personaggi. Per questo, oltre ai luoghi e ai volti, è molto importante il passaggio tra l'italiano e il dialetto, in quanto in questo modo si gioca all'interno del linguaggio, in maniera tangibile, lo scontro tra istinto e condizionamento ambientale, spinte arcaiche e moderniste, in cui si combattono i protagonisti del film. Continua dunque, diciamo, il racconto dell'industria culturale italiana della malavita organizzata, qui però con un racconto che non si imbeve di mito cinematografico, che non si esalta nel racconto che vuole emulare altre storie cinematografiche, nonostante il riferimento a Fratelli di Abel Ferrara è quasi scontato, viene quasi naturale, ma cerca di utilizzare il cinema di genere come scandaglio per raccontare una precisa realtà.